Si chiama Chen Teng, è una giovane donna che lavorava a New York in un ufficio in cui si sentiva letteralmente intrappolata, era una sorta di vera e propria trappola per lei, si sentiva letteralmente in un ambiente lavorativo usurante, usurpante ma al tempo stesso soffocante. Pensate che questa donna straniera si è licenziata quindi ed è partita per Seoul, era una settimana di vacanza, adesso si è stabilita definitivamente a Seoul, la ricerca dell'abitazione non è stata così facile, i proprietari infatti erano molto 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 resti a mostrare la proprietà perché era una donna straniera. Una cosa insomma incredibile, alla fine la donna si era imboccata le maniche, lavorava come ufficio marketing digitale, però era un ambiente tossico che la snaturava letteralmente parlando, voleva vivere in Asia come effettivamente è stato e adesso però la donna fa sapere che si è licenziata e adesso vive instabilmente proprio lì, in oiente, in Asia, ok? Precisamente, credo, a Seoul. Grazie a tutti e a voi complete questa donna.